Buon pomeriggio, anzi buongiorno scusate, ben ritrovati! Sono Giulia, volontaria dell'associazione Uniamoci Ollus e voi siete qui in live sulla nostra pagina facebook appunto dell'associazione Uniamoci Ollus, pronti per un'altra lezione d'inglese. Allora, che cosa ho preparato oggi per voi? Allora, oggi parleremo di giorni della settimana, mesi dell'anno e anche delle stagioni, quindi io ho preparato qua per voi un bel po' di materiale che adesso andremo a vedere insieme. Allora, innanzitutto cominciamo con i giorni della settimana. Come si dice giorni della settimana in inglese? Allora, giorni della settimana in inglese, come vedete, si dice ovviamente ciao a tutti quelli che mi stanno seguendo, quindi Eleonora, Marco, Vincenzo, tutti quanti. Allora, quindi i giorni della settimana si dice ovviamente ragazzi state attenti perché qui abbiamo il TH come potete vedere. Il TH è un suono che noi in italiano che noi in italiano non abbiamo e può essere di due tipi e andremo a vedere quali. Allora, in questo caso ve ne dico uno alla volta. In questo caso è un suono che somiglia un po' alla nostra D, ma non è la nostra D perché è diversa. Ovviamente questo suono si ottiene mettendo la lingua in mezzo ai denti e poggiandola proprio ai denti di sopra. Quindi THE. Ciao Davide, ciao Anna, ciao a tutti, ciao Fabiana. Quindi THE, DAYS, quindi vedete che il suono è diverso. THE, D, THE, D. quindi THE, DAYS, quindi I, GIORNI, OF, D, quindi DELLA, WIC, SETTIMANA. E andremo a vedere un po' quali. Allora, intanto copro questa parte così non vi confondete perché questa sarà un'altra parte. Allora, abbiamo il primo giorno che è lunedì e si pronuncia Monday, quindi Monday. Quindi ripetete insieme a me. Monday è ovviamente lo spelling. Si fa M, O, N, D, A, Y. Monday. Poi abbiamo martedì e abbiamo, si dice Tuesday. Quindi Tuesday. Ricordatevi che la T va detta proprio T, T, quindi Tuesday. Tuesday. Quindi fate finta, mettete la bocca a forma di bacio. Tuesday. Quindi lo spelling è T, U, I, S, D, A, Y. Poi passiamo a mercoledì e abbiamo Wednesday. Mi raccomando, Wednesday. Ovviamente questa di ragazzi è muta, non si dice. Quindi Wednesday. Intanto ragazzi, ciao a tutti quelli che si stanno unendo adesso. Bravissimi, vedo che state ripetendo i nomi dei giorni e la settimana insieme a me. Quindi Wednesday. Adesso ne abbiamo uno che è il più difficile ed è Thursday. Thursday. Ripeto un'altra volta. Thursday. Allora, vi ricordate che io all'inizio vi ho detto di questo TH che si pronuncia THE. Questo invece si pronuncia THE. La differenza è che voi mettete sempre la lingua in mezzo ai denti, però non la poggiate sui denti di sopra, la lasciate in mezzo ai denti. Fate finta che state buttando dell'aria fuori senza fare suono. Quindi TH, TH, come i serpenti ragazzi. Fate conto di questo. Quindi Thursday. Poi abbiamo Friday, che è venerdì. Quindi questo è bello, è facile. Friday. Poi abbiamo, vediamo un po', Saturday, che è sabato, che penso sia uno dei giorni preferiti di tutti, perché ovviamente essendo il weekend si esce. Quindi Saturday. Poi abbiamo Sunday, che è domenica. Quindi Sunday. Bravissimi ragazzi, vedo che state ripetendo tutti insieme a me. Allora, ripetiamo un'altra volta tutto da capo i giorni della settimana. Quindi Monday è lunedì. Tuesday è martedì. Mercoledì è Wednesday. Poi abbiamo Thursday. 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 Poi abbiamo Friday. Poi abbiamo Saturday, che è sabato. E poi abbiamo Sunday, che si pronuncia Sunday, ma si scrive con la U. Marco, si scrive con la U Sunday, mi raccomando. E questi erano i giorni della settimana. Adesso, fatemi un attimo vedere. Ok. Adesso andiamo a I mesi. I mesi dell'anno si dice... Allora, in mesi si dice... The months. Months è molto difficile da dire per noi italiani, perché months ha il TH e poi la S alla fine. Il TH è quello TH che vi ho fatto dire prima, che è lo stesso di Thursday. Monday. Quindi questo TH si pronuncia TH. Quindi months. Quindi lo so, ragazzi, che è un po' difficile, però fate con un po' di pratica, ci riuscirete. Ok. Intanto, ragazzi, ciao! Ciao zia! Ciao! Mi sto seguendo mia zia direttamente dall'America, ragazzi. Sì, quindi non posso fare brutte figure. Allora, quindi, cominciamo con il primo mese dell'anno. Il primo mese dell'anno è January. Quindi January. Quindi ripetete insieme a me January. Poi abbiamo February, o February, come ho sentito anche dire. Quindi February, o February. Ricordatevi il suono della R, ricordatevi, che deve essere R. R. R si fa con la lingua arrotolata all'indietro. Poi abbiamo March. Che è marzo. Quindi February è febbraio, ovviamente. March è marzo. Poi abbiamo April, che è aprile. Poi abbiamo May, che è maggio. E questo è uno dei più semplici da dire. Poi abbiamo June, che è giugno. Poi passiamo a July, che è luglio. Poi abbiamo anche Agosto, che è August. Quindi August. Poi abbiamo Settembre, che è September. Quindi September. Ora ragazzi, da qui cominciano i mesi che seguono, come vedete, finiscono tutti con R. La R che sta alla fine, non si pronuncia. Il mese finisce con un suono che è E. Quindi September. Poi abbiamo October, che è ottobre. Poi abbiamo novembre, che si dice novembre. Poi abbiamo December, che si pronuncia... No, è December, che si dice appunto che è dicembre. Ragazzi, intanto voi mi state scrivendo tutti i mesi dell'anno, bravissimi, fantastici. Adesso io volevo chiedervi un attimino, per appunto interagire un pochino di più con voi, di scrivermi in quale mese voi siete nati. Basta scrivere solamente il mese, quindi non c'è bisogno di scrivere tutta la frase completa. Scrivetemi, mi raccomando, in inglese ragazzi, in che mese siete nati? Allora, qua intanto fiocca nei commenti, appunto, di giorni, di mesi... Siete fantastici, però siete molto molto bravi ragazzi, veramente veramente molto molto bravi. Ok, allora. Nel frattempo che voi scrivete, io faccio fare anche, ovviamente, le stagioni. Le quattro stagioni, quindi le quattro stagioni, le quattro stagioni, si dice the four seasons. Ok, bravo Vincenzo, grande Anna, bravo Marco. Marco, ogni tanto fai qualche piccolo errorino di distrazione, quindi stai attento. Ecco, bravo, ti sei corretto. Quindi, the, sempre lo stesso suono che abbiamo qui, quindi the, for, quindi quattro, quindi avete un'anticipazione della prossima lezione, quindi for, e poi seasons, quindi le quattro. Quattro stagioni. Ecco, bravo Marco, adesso l'hai scritto giusto. Grandi ragazzi, veramente molto grandi. Quindi, the, for, seasons, le quattro stagioni. E adesso andiamo a vedere quali sono. Allora, abbiamo noi spring, 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 spring. State attenti ragazzi, anche quando c'è ng alla fine, ovviamente la g non si pronuncia. Spring, qual è questa stagione? Chi è che mi sa scrivere a quale stagione italiana corrisponde? Vediamo un poco, dai, aspetto un po'. Dai, su, forza! Vi siete bloccati ragazzi. Sì, Fabiana, spring, a quale stagione in italiano corrisponde? Dai, su, forza! Indovinate! Va bene, ve lo dico io allora. Spring è primavera. Bravo Vincenzo, primavera. Poi abbiamo dopo la primavera. Che cosa viene? Viene l'estate. Quindi, come si dice, estate, summer. Quindi, summer. Ragazzi, come vi ho detto, state attenti perché summer finisce per r. Quando c'è la r alla fine, la r è muta. Quindi, summer. Poi abbiamo autunno. Che si dice in due modi? Autunno si può dire autumn oppure fall. Come per esempio, non so se voi avete mai visto, vi interessate di moda, ma quando vedete le collezioni sono primavera, estate, autunno, inverno. Quando c'è autunno, inverno, c'è sempre fall e winter. Quindi, si dice autumn oppure fall. Quindi, mi raccomando, ragazzi. Ovviamente, uno è inglese britannico e l'altro è inglese americano. Vabbè, che se dite uno di questi due, anche se sbagliate, non ci fa niente perché tanto vi capiscono lo stesso. E l'ultimo, invece, è winter. Quindi, winter. Che non è, ragazzi, per i tifosi di calcio, non è viva inter, è winter. Mi raccomando, state attenti. E intanto qua, Fabiana dice vado a mangiare a dopo, ok, Fabiana, buon pranzo. Tanto potete sempre seguire questa diretta anche dopo perché rimane registrata sulla pagina Facebook di Uniamociollus, ragazzi, ricordatevelo. Quindi, l'ultima stagione è winter. Winter. Che è? Inverno. Quindi, ricordatevelo. Inverno. Bene. Allora. Vediamo un attimino che cosa dico nei commenti. Qua ci sono anche un bel po' di risate, evidentemente, visto le battute che faccio, mi sembra anche giusto. Ok, voi intanto andate a mangiare, non vi preoccupate, state tranquilli. Quindi, io ho finito. Se volete, possiamo ricapitolare, per esempio, le quattro stagioni. Allora, ricapitoliamo, ok? Senza, questa volta, interruzioni. Spring. 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 Poi abbiamo summer. Summer. Poi abbiamo autumn. Oppure fall. Quindi, autumn. Oppure fall. E poi abbiamo winter. 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 Quindi. Bene. Io spero che di questa lezione abbiate capito un po' tutti. Fate eventualmente uno screenshot di questo fantastico, questa fantastica tabella. Ok, bravo Marco, bravissimo. Vedo che, guarda, sei il più bravo della classe, veramente. Darei dieci e lode a tutti quanti, veramente. Allora, se avete domande, delle curiosità, qualche, insomma, qualcosa che non avete magari capito, che vi è poco chiaro, perché sapete com'è? Beh, ho sempre paura magari di fare un po' troppo, o magari troppo poco, però, perché, allora, io diciamo che faccio, appunto, una cosa per volta, perché ovviamente l'inglese, ragazzi, è complesso. Per chi non è madrelingua, è molto complesso da studiare, però, piano piano, cioè, vedo che ci state riuscendo, ragazzi, cioè, io praticamente devo cambiare il livello e fare il livello avanzato a questo punto, perché veramente, siete veramente molto, molto bravi. Quindi, allora, per la prossima volta, eventualmente, stavo, allora, possiamo fare i numeri, eventualmente, e poi i numeri sono belli difficilotti, quindi, ragazzi, vedremo un po' come ve la cavate e vediamo un po' come continuare. Ma, comunque, quindi, vedo che non c'è nessuna domanda, vedo che avete capito tutti, mi fa piacere. Ok, Marco continua a scriverci che ha capito tutto, tutto fatto, tutto a posto, perfetto, mi fa piacere, ragazzi. Quindi, io, allora, vi do appuntamento con la prossima lezione del corso di inglese a domani, domani, mi raccomando, 12.45 sulla pagina Facebook di Uniamoci Onlus, non ve lo dimenticate. Quindi, da Giulia, dall'associazione Uniamoci Onlus, è tutto, quindi, vi auguro un buon pranzo, quindi, ci vediamo domani con il corso di inglese. Ciao a tutti, ciao ciao! 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 Ciao!